Sarò velocissima intanto perché insomma è tardi, ho abusato della pazienza di tutti. Voglio ringraziare innanzitutto il Presidente Meloni che nel suo intervento ha fatto ben comprendere quanto per questo governo il turismo è importante. Noi vogliamo dare seguito alle parole che per noi non sono promesse ma che si devono tramutare in azioni. Io ringrazio oltre naturalmente al Presidente Meloni gli ospiti internazionali perché questo è un forum internazionale. Oggi io uscirò e quando andrò via e lascerò Baveno un po' più ricca perché ho avuto questi due giorni di ascolti e per la politica ascoltare è importante per poter poi elaborare le cose che bisogna fare. Ringrazio tutti i miei colleghi ministri che come qualcuno ha detto ha la passerella della Sant'Anché. Come avete capito non è una passerella e semplicemente far capire che il turismo è trasversale. Come vi dicevo ieri non si può disgiungere il turismo dalla cultura, dallo sport, dalle infrastrutture, dalla sicurezza, dall'agroalimentare. C'è tutto è turismo e tutto partecipa ai turismi. Voglio ringraziare gli assessori, gli assessori del turismo di tutte le regioni. Ieri ho detto, perché conoscendo un po' la stampa, almeno una parte della stampa, ho detto non fate il titolo, la Sant'Anché vuole rubare o scippare il turismo alle regioni. Non mi piace rubare, mi piace invece acquisire, mettere insieme, fare la squadra, costruire quella squadra che deve avere la stessa casacca che è quella nostra, della nazionale. Ho detto ieri che per vincere le sfide bisogna costruire questa squadra e che è imprescindibile, senza, non si potrebbe fare, senza gli assessori del turismo. Ma ho detto con fermezza, perché non mi nascondo dietro un dito, che dobbiamo investire meglio di più quando, come Italia, andiamo all'estero. Perché nel mondo siamo conosciuti con Italia, è allora importante portare avanti il padiglione Italia dove all'interno dobbiamo poter esaltare tutte le peculiarità delle regioni. Ma dobbiamo lavorare anche in Italia, perché se ci preoccupiamo dell'incamin di portare gli stranieri in Italia, ci dobbiamo anche preoccupare di far conoscere meglio l'Italia e gli italiani. Perché non sono così certa che ogni italiano conosca poi così bene la sua nazione. Oggi, se dovessi trovare delle parole d'ordine che sono venute fuori da questi due giorni di intensi confronti, è venuto fuori il concetto della squadra, ma questo non lo sto più a ripetere, perché prendendo dallo sport da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontani. E noi vogliamo dimostrare che vogliamo andare molto lontani. Quindi la prima parola d'ordine è squadra. La seconda parola d'ordine, perché vedete, è vero, no? Si dice la politica, la società, le istituzioni. Io invece ho sempre pensato che ogni italiano possa avere un pezzo importante, un contributo importante. E per me la seconda parola d'ordine di questa conclusione dei lavori è orgoglio di appartenenza. essere un po' più fieri di essere italiani, orgogliosi della propria nazione, orgogliosi del proprio tricolore. E io credo che con quella squadra, fra quattro anni, mi auguro che potremmo essere un po' più fieri di essere italiani per avere conseguito dei risultati importanti. La terza parola d'ordine deve essere quella del cambiare il paradigma. In Italia, sino adesso, si contavano le teste. Quanti turisti arrivavano nella nostra nazione? Il paradigma deve cambiare. Non è importante quanti, ma quanti soldi spendono se un turismo di qualità e come arricchiscono i nostri territori. Questo deve essere importante. Dobbiamo superarlo, quel concetto. Anche perché abbiamo un altro tema, è l'over turismo. Non mi piace questo tema. Non mi piace pensare che il turismo sia una minaccia. Io invece ritengo che il turismo per tutti è una grande opportunità. E quindi è sbagliato forse dire troppi turisti. Forse sino adesso possiamo dire che il turismo è stato subito e non gestito. Che è un concetto diverso. Quindi questa deve essere anche una parola d'ordine di quelle che dovranno essere le nostre azioni. Poi non abbiamo, nel mio discorso introduttivo, non perché volessi nascondermi, perché ho tanti difetti, ma ho sempre il coraggio di metterci la faccia, non abbiamo ricordato un problema che esiste che è quello degli affitti brevi. Anche qua, nonostante qualcuno continua a dire «Ah, la Sant'Ancheco si ha affitti brevi». Poi quelli che parlano sono quelli che hanno governato senza peraltro avere neanche il consenso del popolo e non hanno fatto un tubo. Quindi un attimo di pazienza. Non è che siamo qua da dieci anni, siamo arrivati da poco. Faremo anche questo. Vedrete che prima della fine dell'anno normeremo un settore complesso, molto complesso, difficile, ma dove ha sempre, come dire, c'è un po' un far west. Però da una parte dobbiamo tutelare quella che è la proprietà privata, che per noi è sacra, e dall'altra parte non dobbiamo consentire una concorrenza sleale. Ma riusciremo a farlo con quello che è un po' la nostra visione, il buon senso. Un'altra parola d'ordine di questi giorni che dobbiamo portare avanti è sostenibilità. L'ha detto bene anche il nostro Presidente del Consiglio. Sostenibilità non è solo quella green, che l'ha detto bene Giorgio Meloni, noi siamo conservatori e vi pare che non vogliamo tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti il patrimonio dell'Italia. Saremo dei pazzi se pensassimo che questo non si deve fare. Ma sostenibilità anche è due altre gambe, che quella economica e quella sociale. Economica, perché dobbiamo tenere in piedi le economie di quelle comunità e quella sociale, perché è il rispetto di chi ci abita. Un'altra parola d'ordine, sarò breve, vado verso le conclusioni. È venuta ed è emersa con grande forza destagionalizzare. Abbiamo e l'abbiamo, l'hanno raccontato tutti. Io voglio ringraziare veramente gli imprenditori, gli stakeholder, i rappresentanti delle associazioni di categoria, della loro partecipazione e di quello che hanno detto. perché se la politica, le istituzioni possono fare molto, ma non potremmo fare niente se non ci fossero gli imprenditori, i lavoratori, coloro che compassione, resilienza, tutte le mattine tirano su e giù la Claire, magari del ristorante, del loro albergo, delle loro attività commerciali. Siete voi la nostra forza. Perché qualcuno forse pensava che i posti di lavoro si possono fare con un atto del governo. No, noi siamo consapevoli per questo, che vogliamo togliere tutti i laccioi laccioli all'impresa, agli imprenditori, perché noi siamo consapevoli che solo voi potete creare l'occupazione e la ricchezza. E quindi ringrazio sentitamente coloro che tutti i giorni ci mettono testa e cuore per portare avanti le loro aziende. Ma vi dicevo la destagionalizzazione, un'altra parola chiave, perché abbiamo tutto, abbiamo di più, ma anche qua, per destagionalizzare io credo che il nostro ministero debba aiutare l'attività del settore del turismo, che spesso sono micro o piccole imprese, perché io non posso chiedere a un albergatore di tenere aperto in quei mesi dove è difficile avere la capienza della propria struttura, perché abbiamo già chiesto molto agli operatori del settore del turismo dopo il Covid, che avete pagato il prezzo più alto. Devo sostenerli, ma dobbiamo creare delle offerte turistiche perché quell'albergo, quel ristorante, quell'attività possa rimanere aperto tutto l'anno, perché è sostenibile da un punto di vista economico. Ecco, io credo che dobbiamo fare tutto questo. Dobbiamo anche, prima sentivo Urbano che ero sul palco, che ringrazia anche lui, come tutti gli altri, di essere qua oggi. Io anche qua ho una grande ambizione. Non posso pensare che siamo meno della Francia, che il Tour de France è più importante del nostro Giro d'Italia. Un nostro obiettivo deve essere quello, che il Giro d'Italia deve essere il primo nel mondo, perché, come diceva, è una gara dura, ma anche la più bella, ma perché il Giro d'Italia possa diventare più importante del Tour de France. Abbiamo bisogno della squadra, dobbiamo metterci più risorse, dobbiamo metterci più attenzione, perché, per concludere, forse, come ho detto ieri, sono ambiziosa, ma l'ambizione non è una bestemmia. essere ambiziose vuol dire avere quella passione, quell'energia che poi dà forza alle idee per poter arrivare in fondo, per poter arrivare a meta. Sì, ho l'ambizione, che siamo la nazione più bella, ma non siamo ancora la nazione più brava nel venderci. Oggi, dopo ieri, dopo avervi ascoltati, sono certe, invece, che oltre a essere la nazione più bella, tutti insieme diventeremo la nazione più brava nel saver vendere quello che abbiamo avuto senza meriti, ma con una grande fortuna di nascere e vivere in Italia. Grazie. Ah, scusate, no, ho dimenticato una cosa importantissima. Tra pochissimo si voterà per l'Expo 2030 e mi auguro veramente che molti paesi d'Europa votino per noi e tanti altri, ma se non ce la faremo al primo turno c'è la seconda possibilità al ballottaggio e poi che vi aspetterò tutti perché per la prima volta nel G7 ci sarà anche il turismo che svolgeremo il mese di luglio. Grazie e buon sabato. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.